ciao buongiorno allora ho pensato di fare un video a distanza di circa due anni dall'ultimo video che feci che giù in descrizione ti posto in effetti feci un controllo di quanto costava consumare cioè riscaldare casa con una caldaia quanto costava realmente proprio a livello di i soldi facendo una media in bolletta ora a distanza di due anni e mezzo lo faccio la stessa prova con la stessa casa ma con una caldaia a condensazione quindi tipologia completamente diversa quindi adesso vado ad accenderla ea controllare il contatore come pesci due anni fa e vediamo poi il risultato dopo circa un'ora anzi dopo un'ora preciso di utilizzo a fra poco so Grazie a tutti. Grazie a tutti.